E' iniziato questa mattina alle 10 il presidio dei lavoratori di Formula Ambiente davanti al municipio di Chieti. L'iniziativa è stata organizzata dai rappresentanti della funzione pubblica CGL Giuseppe Rucci e FIT CISL Michele Mastro Giuseppe, anche se alla luce dell'incontro convocato per la stessa ora dall'azienda, questa mattina in piazza le bandiere della CISL non c'erano. E pare che proprio da questo incontro siano scaturite delle novità che potrebbero portare alla sospensione dello stato di agitazione in seguito agli accordi raggiunti questa mattina. La situazione era diventata critica dallo scorso mese di settembre, cioè da quando il comune di Chieti aveva smesso di versare il canone mensile alla dita che gestisce il servizio rifiuti, Formula Ambiente appunto. Un mancato pagamento che di fatto ha congelato gli stipendi dei 101 dipendenti. Posso soltanto dire che noi ieri sera formalmente abbiamo ricevuto una convocazione per questa mattina da Formula Ambiente che ci indicava una riunione per le ore 10 di questa mattina in videoconferenza. Noi come funzione pubblica abbiamo deciso di mandare la RSU a partecipare, ad ascoltare quali erano le informazioni che venivano date questa mattina e come segreterie, rispettando anche la volontà dell'assemblea dei lavoratori, noi abbiamo ritenuto di venire qui al presidio, quindi abbiamo cercato di mettere e di tenere insieme le due cose. Vediamo quello che decideranno nelle prossime ore e soprattutto quali saranno le comunicazioni che verranno date. Poi su quelle immagino che riapriremo anche un confronto con i lavoratori. Ieri abbiamo ascoltato dichiarazioni dall'amministrazione comunale, dalla dottoressa Salute. Francamente siamo rimasti un po' perplessi perché parlare di di accessivo allarmismo. Quando ci sono lavoratori che non ancora percepiscono lo stipendio perlomeno ci sembra un po' assurda questa dichiarazione.